Pronto, come va? Efe, ciao, come stai? Buonasera a tutti, poi dopo il programma viene da me stasera? No, beh Efe, no, stasera non posso Ma posso chiederti una cosa? Ho sentito il reportage di Selvaggio Ruccarelli che ha detto che quando stavate insieme a te piaceva l'idea che lei facesse qualcosa con un altro uomo davanti di te? No, ma non è così, non è così Ti è stata raccontata male la cosa Ma l'ha raccontato proprio lei Ma non ha affatto detto questo Non ha affatto detto questo Sei un porco, lo so io Sei un porco Vai a rileggere Ma con te non ho mai fatto nulla La prima volta mi hai fatto scopare Ma non è vero Ma non è vero, ma sei pazzo Ma sei impazzita E' una schifosa, guarda Del grado, del grado E' degrado assoluto Io voglio capire una cosa Efe, no, ma io non ho fatto mai nulla E lei che si sta inventando tutto Ma sì, sì, sì Tu sei magrissimo, per esempio Non mi piace Quando mi scopri mi fai male Ma non t'ho fatto nulla Non sono mai stato con te Ma non sono mai stato con te Basta, non sono mai stato con te Finiamola con questa buffonata Non sono mai stato con te Ciao, ciao Ma figuretti Ciao, ciao Buffone